È stata una seduta molto serena, molto tranquilla, abbiamo sentito toni concilianti da parte di tutti gli intervenuti. Ovviamente è la prima seduta, ci sono persone che non sanno come funziona, devono imparare, però direi che ci sta che soprattutto all'inizio non si colgano i tempi dell'intervento. Se si vuole andare a cercare le contrapposizioni e se si vuole creare l'immagine che nella politica si litiga e basta, si può farlo. Io credo che stasera sia dimostrato invece che c'è un consiglio comunale che con grande civiltà si accinge a fare il suo dovere nei prossimi cinque anni.